Un grande gesto d'amore dal 99% dei sindaci di questa provincia che hanno sollecitato questo incontro, che hanno voluto ovviamente non soltanto esprimere la solidarietà, la stima e la riconoscenza per quanto abbiamo ricevuto come amministratori ed enti locali dal governo della Prefettura durante il periodo di Sua Eccellenza Repucci, ma soprattutto anche la richiesta al Ministro Alfano e al Presidente Renzi di rivedere sicuramente un provvedimento preso in modo frettoloso senza contraddittorio, ma che non tiene conto di un'onorabile storia che ha visto il Prefetto impegnato in più occasioni, in più parti, ma devo dire sempre presente tra le istituzioni a risolvere i problemi e a fare una politica a favore dei giovani, combattendo ovviamente tutte le piaghe dalla tossicodipendenza a tutto ciò che oggi nel terzo millennio i ragazzi conoscono fin troppo bene.